Maggioranzi e opposizione fanno quadrato sulla mozione di indirizzo presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia con cui si impegna il presidente del Consiglio di quartiere di Scoglietti, Marco Dezio, di chiedere al sindaco Giuseppe Nicosia di concedere maggiore autonomia amministrativa e finanziare agli uffici della frazione più potere decisionare allo stesso presidente. La mozione di indirizzo è stata approvata all'unanimità del Consiglio di quartiere, riunitosi ieri sera. Si è giunta a tale soluzione in maniera unanime dopo aver proceduto al congelamento della mozione di sfiducia che era stata presentata qualche settimana fa contro il presidente, mozione presentata non soltanto dal gruppo di opposizione ma anche dai due consiglieri della maggioranza. Superato questo ostacolo, il Consesso ha deciso di collaborare nella sua interezza per far sì che l'organo possa avere non solo una funzione consultiva ma anche possa partecipare con delle proposte alla presentazione di progetti. Il presidente Marco Dezio si è impegnato a convocare una seduta del Consiglio di quartiere che si svolgerà alla presenza del sindaco Nicosia. Durante quella seduta il primo cittadino dirà come intende procedere.